A Grosseto è stato organizzato un convegno, Corri insieme a me, dedicato allo sport ma dedicato anche alla disabilità. È stato presentato nel corso di questo convegno un libro del giornalista Roberto Di Sante, Corri dall'inferno a Central Park. Questo libro peraltro servirà per raccogliere fondi per un'associazione tutto possibile Ollus che sta cercando di realizzare un sogno, realizzare un progetto, quello di RoboWalker, praticamente consentire ai ragazzi disabili di poter camminare attraverso l'ausilio di gambe meccaniche. Eh sì, è un progetto che stiamo perseguendo da tempo e quindi stiamo raccogliendo fondi in svariati modi. Quando siamo stati invitati dall'organizzatrice di questo convegno, Adelfia Franchi, conosciuta qui a Grosseto come AD, ci è sembrata un'opportunità da non perdere. Roberto Di Sante, cosa significa scrivere un libro in cui si racconta un'esperienza personale come la sua? Corri dall'inferno a Central Park. È ripercorrere una strada dolorosa, quella dal pozzo buio, dalla depressione, una malattia terribile, a volte più feroce di una malattia fisica che porta spesso alla morte. E risalire questo pozzo attaccato al filo di un sogno impossibile, quello di correre la maratona di New York e di uscire dal pozzo, grazie all'aiuto anche medico ovviamente, quindi di un bravo specialista, grazie all'amore di una compagna, e quindi arrivare a realizzare questo sogno impossibile che era la maratona di New York. E a volte proprio le passioni, quelle più folli, ci fanno bucare quella cappa di buio che ci costringe dentro una prigione, che ci strangola, fanno entrare quel filo di luce a cui ci si aggrappa per uscire poi dalla disperazione e avventurarsi verso una vita migliore, più bella, fatta di piccole e grandi cose dove si è felici e si è realmente ricchi anche con poco. Questo è quello che mi ha dato la corsa. Quindi ho voluto trasmettere questa mia testimonianza e devo dire da quelle relazioni del libro, questo libro non è più il mio, è diventato il libro di tanta gente. L'Unione Europea lavora sia sul campo dello sport sia sul campo della salute. Sono due materie in cui l'Unione ha una competenza di sostegno, quindi non ha una competenza che si sostituisce a quella degli Stati membri. Una persona su sei ha patologie legate alla salute mentale. L'Unione Europea interviene e lo fa con delle iniziative che sono legate all'accessibilità. La Commissione supporta questo tipo di iniziative, lo fa attraverso Erasmus Plus che ha un capitolo sport. Vedrà un raddoppio delle disponibilità e una parte importante di queste disponibilità finanziarie nell'ambito dello sport saranno destinate alle scuole.